Sono assolutamente a fianco della categoria degli agricoltori nei confronti di un'Europa che non tutela assolutamente quelli che sono i valori e gli interessi che sono dietro queste figure che tutti i giorni si alzano la mattina per lavorare la terra, per allevare i loro animali e vedere un'Europa invece che tutela gli interessi delle multinazionali che vogliono obbligarci a comprare farina derivata da insetti, grilli e quant'altro che chiede agli agricoltori di lasciare parte dei loro terreni incolti pur di avvantaggiare gli interessi delle multinazionali per questo io sono al loro fianco, quello che però mi stupisce è che noi candidati alle prossime regionali possiamo metterci la faccia e stare vicino a loro, ma quelli che realmente dovrebbero stare qui sono i candidati alla prossima elezione all'Europarlamento e non noi che dovrebbero fare questa battaglia alla loro battaglia, invece non vedo nessuno di questi questa cosa mi dispiace profondamente